Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo all'aceto balsamico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono petto di pollo a fettine, pepe, sale, olio evo, rosmarino, parmigiano a scaglie, aceto balsamico e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e di rosmarino. Ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere l'aceto balsamico, il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 1. Abbiamo posizionato i pettini di pollo nel vassoio del Varoma e nel Varoma con carta da forno bagnata e strizzata. Adesso versare il composto sui petti di pollo. aggiungere le scaglie di grana. Senza lavare il boccale mettere l'acqua. chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il Varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura Varoma. Velocità 2. Il pollo è cotto. Impiattare e servire. Pollo all'aceto balsamico. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.